Io credo che i due anni pandemia siano serviti a svelare un ruolo che la farmacia ha sempre avuto. Ora io ritengo che questo abbia disvelato delle potenzialità che saranno utili anche in futuro. La vera sfida della sanità futura è la territorialità. Nessuno è più territoriale di un'equip fatta da farmacie di comunità, medici di base, infermieri. Ritengo veramente che poter approfondire questi temi, forse con un cuor leggero della pandemia, sia un modo per impostare correttamente il lavoro per il futuro. Immagino di condividere questo premio che meritatamente arriva a me con tutte le 19.000 farmacie italiane. Questo è il mio pensiero, allora forse in questo modo ha un qualche senso. Due anni sì, vedersi di persona è importante, confrontarsi è importante. Abbiamo superato una fase, una fase brutta. Il poter parlare con la base in un momento di grande trasformazione del ruolo della farmacia, che è stato finora dettato semplicemente dall'urgenza e emergenza. Poterlo fare in modo sistemico e programmato è sicuramente un fatto importante. Convegni come questi, e in questo momento ce ne sono parecchi, sono fondamentali. Grazie. 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 Grazie.